Abbiamo scelto Sanremo, il Festival di Sanremo, perché entra in tutte le case degli italiani e quindi porta la canzone e noi vogliamo portare il nostro messaggio attraverso questo spot che andrà in onda durante la trasmissione, il Festival di Sanremo, questo spot che racconta, spiega l'importanza di usare dei materiali senza formaldeide, dei materiali che ci permettono di respirare aria sana in casa nostra, come viene raccontato nello spot di essere come in collina, trovarci in casa e respirare aria sana nel benessere dell'ambiente in cui viviamo. Pittura, materia, ecologia, sono i tre highlights che Oikos ha scelto, come mai avete scelto proprio questi tre e come li armonizzate insieme. La materia, un elemento che troviamo in natura, un elemento che noi abbiamo usato e che riusciamo per dare una seconda vita. La pittura, che è l'elemento del nostro lavoro, l'ecologia, riteniamo essere un altro elemento imprescindibile nella nostra vita quotidiana da rispettare. Insieme hanno formato il nostro ecosistema di pittura, materia ed ecologia per offrire una gamma di prodotti con 187 combinazioni di texture bianche per entrare ad arredare le pareti e le superfici di tutte le case. Tra tutti gli elementi, quello della salute è un tema a voi molto caro, che sviluppate in maniera, devo dire, anche molto amorevole. La salute è benessere, quindi come non pensare al nostro benessere. Per questo i nostri laboratori, noi abbiamo fatto un grande lavoro di ricerca in questi anni per eliminare la formaldeide, che noi non la sentiamo, non la respiriamo, ma è presente nell'aria, ma come è presente nelle pitture. Noi invece l'abbiamo eliminata, per cui le nostre pitture, la nostra materia insieme compongono questo ecosistema, compongono questo progetto innovativo che ha ricevuto anche un riconoscimento, un premio proprio per l'innovazione.